Sono passati sette mesi dalla riconsegna del primo lotto di intervento dei sottoservizi da parte della Gran Sassoacqua, stazione appaltante al Comune, e questo ancora non provvede a dotarsi di un disciplinare per la gestione delle infrastrutture tecnologiche che vari operatori hanno realizzato. Non c'è il responsabile della sicurezza, gli operatori non hanno accesso al tunnel, ciò significa che da marzo non fanno allacci. La questione è venuta fuori in commissione vigilanza. Di fatto da dicembre, da quando la Gran Sassoacqua ha riconsegnato al Comune il primo lotto terminato, il tunnel sottoservizi è diventato terra di nessuno, dove è impossibile per gli operatori anche accedervi perché nessuno concede l'autorizzazione in mancanza di un responsabile della sicurezza, con una paralisi di fatto anche per gli allacci alla rete internet e tante altre attività. Quindi problemi connessi poi anche alle famiglie e alle attività del centro, c'è una questione che si è riversa poi sui cittadini? Assolutamente sì, il referente di Telecom ci ha detto che da marzo non hanno più la possibilità di entrare nei servizi, e quindi hanno una quantità significativa di domande in evase per impossibilità. E questo è assurdo nel momento in cui, è noto da sempre che nel momento in cui l'opera fosse terminata, andava poi gestita attraverso un regolamento di gestione, un disciplinare di cui l'amministrazione parla da anni, ma che ancora non ha approntato e veramente diventa incredibile e inaccettabile una situazione del genere. Dal canto suo, la Gran Sasso ha fatto il proprio lavoro, ma ovviamente il presidente Piccinini spiega che loro lavorano in stretta collaborazione con il Comune. Abbiamo avuto la necessità di portare degli elementi di chiarezza per distinguere un po' la situazione del primo straccio con il secondo straccio. Il primo straccio è un'opera ormai collaudata e riconsegnata al Comune, che è il proprietario dell'opera. C'è la questione aperta sulla gestione del primo straccio. Esiste uno studio che noi abbiamo fornito al Comune già da diverso tempo, che fa una quantificazione dei costi. Ovviamente noi siamo la partecipata, il Comune è il nostro socio di maggioranza, per cui è normale che saremo collaborativi fino alla fine per tentare di trovare una soluzione. Siamo anche disponibili a gestire l'opera, ovviamente a fronte di un impegno economico che non può gravare sulle spalle della Gran Sasso Acqua, che ha un bilancio a sé stante.